De Luca non rappresenta più la Campania, è un lottizzatore seriale della cosa pubblica, così Valeria Cerambino durante il Consiglio regionale di questa mattina, durante il quale sono volati gli stracci. All'ordine del giorno la mozione di sfiducia presentata dal centro-destra e dal Movimento 5 Stelle. I due gruppi hanno chiesto la testa del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il confronto si è concentrato soprattutto sull'esito del voto referendario. La tensione è salita alle stelle con l'intervento dell'ex governatore Scaldoro, capo dell'opposizione di centro-destra. State raccontando ai napoletani e ai campani una realtà che non c'è e quando ciò accade si viene puniti, ha detto Stefano Caldoro. La sanità peggiora, i trasporti pure, aumenta la disoccupazione, non che prima fosse semplice, ma ora la situazione è peggiorata, ha dichiarato l'ex Presidente della Regione. A Caldoro ha replicato il Vice Presidente del Consiglio regionale Tommaso Casillo. Sui fondi europei, perché non si dice che abbiamo recuperato tutti i grandi progetti che non erano stati neppure avviati nella programmazione 2007-2013, si è chiesto il Consigliere Democratico. Dal Movimento 5 Stelle Valeria Cerambino è arrivata la stroncatura decisiva. Grazie a De Luca siamo ultimi per assistenza sanitaria, trasporto pubblico e lavoro. Siamo stati costretti a sottoscrivere questa mozione per tutelare la dignità dei cittadini campani. De Luca, ha aggiunto Cerambino, ha provato a usare le istituzioni e il denaro pubblico per fare clientela. È bastato un anno e mezzo di governo per smascherare l'illusione del buon amministratore e mostrare il velo volto di questo Presidente. De Luca non rappresenta più la Campania, per questo non può più esserne il Presidente. A quelle statistiche poi si è aggiunta in queste giornate quella del Censis, che dice ancora altre cose, che dice che il mezzogiorno avanza sul terreno dell'agricoltura e la Campania è una delle regioni di frontiera importante, che ha scommesso e scommette. Certo, poi abbiamo avuto e abbiamo incrociato anche una buona annata e questa ce la manda il Signore e non le forze di maggioranza. Ma poi stiamo investendo perché possano rimanere più giovani in agricoltura, possano sopravvivere le nostre imprese, possono esportare di più e meglio. E allora raccontiamole tutte, come Caldoro mi invitava a fare negli anni scorsi, credo che siamo tutti in un'altra Italia, tutti, tutti in un'altra Italia dopo il voto del 4 dicembre. È un Paese completamente diverso da quello che abbiamo immaginato, a tratti raccontato, ma anche come ha reagito. Ora io inviterei tutti a non intestarsi questi voti. Credo che questo voto è un voto molto interessante, che coinvolge l'Italia, ma che per certi aspetti ha riguardato la Francia e poi la Gran Bretagna, e poi la Spagna, e poi l'America. Perché quando hai una parte dell'umanità, non dell'Italia, non del Mezzogiorno e non solo della Campania, in particolare sofferenza, quando hai una parte dell'umanità che non raccoglie benefici di quella globalizzazione che soprattutto politiche neoliberiste e di destra hanno affermato in Europa e nel mondo, e noi da sinistra siamo stati forse troppo timidi a dire che c'era ancora una distinzione su come vedevamo la società e come leggevamo immutamente, e allora poi arrivi anche a questa disperazione. Ora, non vorrei, ho concluso, che vi intestate pure il voto di quella disperazione che figlia esattamente di quelle politiche. Grazie. La frase, campagna elettorale, mai più ultimi, ma non c'è la miseria. Piano piano ci stiamo avvicinando, come si può dire, sempre più in basso rispetto a tutte le grandi questioni di sviluppo del territorio, però, diceva Marciano, sono dati giustamente, il 2015, quindi ci sta la copartecipazione rispetto a questo dramma campano da parte della vecchia amministrazione regionale. È un dato di fatto però che la qualità della vita è sempre più bassa, è pessima. Il dramma dei ragazzi con la valigia che devono andare fuori dalla nostra regione, purtroppo anche fuori dalla nostra patria. È un dato di fatto però che Salerno, città, ovviamente non era amministrata da questa amministrazione regionale, precipita sempre più in basso.